Sono a Venezia per raccontare i sestieri del gusto, è chiaro San Marco è il sestiere più famoso e più conosciuto al mondo. Pensate qui c'è un'enoteca, osteria al volto, la dirige Sebastiano. Sebastiano, ormai siamo andati amici perché siamo due sportivi, io calciatore, ex, invece tu praticanti ancora... L'ultimo anno che posso farlo, poi ho limiti d'età, pilone, 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 pilone destro per esempio. Da quanto tempo è che giochi a rugby? Da quando avevo 17 anni, quindi è un pezzettino. Qui sei da quanti anni? Qua sono otto anni. Allora dicevo prima, enoteca, osteria, come ti possiamo classificare? Il mio principalmente è un'idea di baccaro, baccaro osteriola insomma. Un baccaro veneziano, un'osteria... Un piccola osteria, si si cucina. Cosa possiamo trovare qui? Beh vabbè, oggi le canozze... Freschissime. Che sono andate a prenderle al mercato. Perché confini con Rialto, dove c'è il mercato. Sì, 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 io poi tra l'altro abito dall'altra parte del ponte e quindi faccio la strada e sono passato al mercato e ogni tanto prendo qualcosa di forte. Mi ha detto che sei fortissimo anche con i primi insomma. Siamo abbastanza bravi, sì, 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 facciamo... adesso stiamo cambiando il menù per un menù più invernale. Ho visto che sei a Santa Croce, passi per Rialto e prendo una cosina. Sì, sì, sì. Eh beh, la comodità è quella che Venezia essendo molto piccolina è tutto collegato. Poi c'è il turismo dell'acqua qua, ho visto che la gente, cioè a Venezia ci viene... Ci viene per vederla qua alta, sì che... Anche stamattina... Però è molto turistico, per noi alle volte tipo l'ultima eccezionale è stata qua un problema, però si va avanti. Alla fine fa solo qualche danno il resto. Ho visto che hai la foto di tuo papà qui, che di solito uno non la porta nell'attività, no? Cioè la tiene a casa nel comodino, no? Tu l'hai qui. Io porto il papà perché voglio molto bene il mio papà, papà è ristoratore anche lui a Murano e mi ha tramandato questa... Voi nascete come ristoratori, insomma, tutta la tua famiglia. Sì, 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 cioè no, in realtà il papà cambia lavoro negli anni Ottanta. Prima dirigevo una fabbrica di vetri perché a Murano vivevamo lì. E nell'89 dice di cambiare vita e apre la trattoria Busa alla Torre a Murano. E poi da lì abbiamo aperto diversi locali. Adesso sono qua. Ok, senti, se i tuoi amici ti invitassero a cena, no? Dici, Sebastiano, ci vediamo domani di sera. Devi portare un tuo piatto. Cioè, cosa porti tu da buon veneziano? Buon veneziano, porto le sempre in nero perché mi vengono bene e poi soprattutto piacciono molto anche a me, quindi almeno sono sicuro che un piatto lo mangio. E se ti dicono di portare anche qualche vino, cosa porti? Un Friulano, un Veneto, un Trentino, Alto Adige? Beh, comunque ho un Veneto, un Friulano perché sono le zone che bazzico di più, io personalmente quindi ho contatti più diretti con la casa. Bene, allora io rivolgo l'invito, Sestiere San Marco, venite a trovare qui l'Enoteco Osteria al Volto. Lo troverete, Sebastiano. Ho visto che hai anche uno staff molto giovanile qua. Sì, 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 tutti i ragazzi... Siamo vicini alle feste natalizie, hai qualche augurio da fare? Beh, alla mia famiglia, ai miei amici, alla mia squadra di rugby e alla mia ragazza che... E ai tuoi clienti che ti devono non mollare mai. Ai miei clienti che sono affezionatissimi. E non lo deve mollare mai. Bene, allora rivolgo l'invito, venite qui all'Osteria al Volto, troverete Sebastiano e tutto il suo staff e noi naturalmente vi facciamo anche gli auguri.